eh vedi quel passaggio stupido lì lì Ok, ok, ok eh se passi sotto io sono passato in alto e c'è il rischio di andare dentro? eh è quello almeno un mezzo metro di misura mi piaccio il bambino è razzato che verso che hai fatto Vito aiuto aiuto certo ma non dovevi mettere il piede dovevi farla a zero a zero Occhio questa è Stai filmando? Allora vado avanti no? Allora vado avanti nessuno